Il sangue delle donne, tragedie senza fine. Questo volume pubblicato dalla Vallecchi Editore è stato fortemente voluto dalla coautrice Adriana Pannitteri, con la quale abbiamo deciso di raccogliere le storie drammatiche sia di vittime secondarie, cioè gli orfani dei femminicidi, coloro che hanno vissuto in via indiretta la violenza a livello domestico, familiare, sia le storie di coloro che invece hanno patito direttamente ma sono riuscite ad uscire da questo meccanismo perverso che è la violenza nell'ambito dei rapporti familiari o semplicemente affettivi. Il contributo dato da autorevoli esperti in materia, in campo sociologico, psicologico e anche giuristi rende l'opera un unicum perché raccoglie i punti di vista degli esperti e non solo intende raccontare il fenomeno della violenza domestica o di genere dei femminicidi ma intende anche suggerire una serie di strade per poterlo contenere o addirittura finalmente debellarlo.